I secondi d'Italia tornano nel centro storico di Gubbio con Pig Passion, la prima kermesse gastronomica che guida la scoperta di piatti e ricette d'eccellenza a base di carni suine. Il 18 e 19 aprile, dalle 10 alle 20, nelle suggestive cornici di Corso Garibaldi, Palazzo della Porta e Arconi di Via Baldassini, barbecue, porchette e salumi di qualità diventano i protagonisti di degustazioni gratuite e continuative. L'obiettivo è valorizzare e diffondere tipicità, tradizioni ed eccellenze del Made in Umbria. Il nuovo evento, firmato a Eptacomfcommercio e finanziato dal Gala Alta Umbria, è stato presentato a Perugia, presenti i presidenti provinciali e locali di Confcommercio, Mencaroni e Belardi, il presidente del Gala Alta Umbria, Tiri Magni e l'assessore comunale al turismo, Rughi. Aver organizzato in collaborazione con Eptacomfcommercio questa kermesse gastronomica che fa il paio con quinto quarto, quindi con quello che abbiamo vissuto a Gubbio nella metà di novembre. Siamo molto convinti che questo tipo di manifestazioni possano contribuire al rilancio turistico della città perché legano alcune eccellenze tipiche del nostro territorio con il turismo e quindi speriamo che questo diventi un appuntamento fisso anche per i prossimi anni. Tre le location destinate alla degustazione gratuita, il porchetta village in Corso Garibaldi, un'area street food con degustazione continuativa di porchetta e arrosti arricchita dal suggestivo Norcinape dove la tradizione della porchetta prende forma insieme alle più estrose e gustose varianti. E poi il barbecue space presso gli arconi con degustazione continuativa di bontà da barbecue tra cottura perfetta, tagli migliori e condimenti che danno sapore. Infine il Norcinart, palazzo della Porta, prelibati e affettati in degustazione, l'arte della cresce gubina abbinata al gusto intenso dell'alta Norcineria Umbra. Sapore e gusto dunque ma non solo, momenti di intrattenimento e divertimento per i bambini si alternano a esibizioni e degustazioni guidate di chef, food blogger e personaggi noti che tra cucina classica e creativa svelano i propri segreti per ricette gustose e impeccabili. Laboratori del gusto, ovvero mini corsi gratuiti con presentazione e degustazione guidata di Arista, Zampone, Norcina, Stinco e molto altro ancora, Kids Space tra gioco e didattica, edutainment e laboratori per i più piccoli con tante attività ludiche di manipolazione ingredienti appositamente studiate per i bambini, le proprietà nutrizionali della piramide alimentare, giochi a tema e le panino maialino in collaborazione con Fida Federcarni di Conf Commercio, intrattenimento per il palato ma anche per la mente con la sezione dei libri di gusto a tavola con gli autori della letteratura enogastronomica italiana sulle carni suine, emeroteca, librerie e libri di cucina ma anche attenzione alla salute e al buon mangiare con l'angolo del benessere, un corner continuativo completamente dedicato al benessere della persona, qualificati dietisti a disposizione per una tavola rotonda sulle carni suine e sulla buona alimentazione quotidiana. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!